Il rincaro dei prezzi del gas è visibile, forte. Tenete presente che per circa un decennio il gas è oscillato tra i 20 e i 30 Euro a megawattora, oggi siamo tra i 200 e i 350 Euro, quindi un grande, un alto rincaro. IREN, come tutte le multiutility, tutte le società che trasformano il gas per produrre energia elettrica, da distribuire alle famiglie, alle imprese, ovviamente sta gestendo una crisi di prezzo, perché noi compriamo questo gas. I primi ad essere danneggiati siamo noi, quindi noi chiediamo con gran forza la instaurazione di un tetto che il governo Draghi ha chiesto e che riteniamo essere uno strumento importante, imprescindibile per poter ridurre il costo della bolletta degli italiani e delle imprese.